Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei piccolina. Alti erano alti, forse pure troppo, tanto da destare l'attenzione della Guardia di Finanza che ha sequestrato nel goriziano una piantagione di papaver somniferum per un totale di 760 piante. Ovviamente non si tratta dei classici papaveri con i fiori rossi a cui va il pensiero di tutti, ma della specie da cui si ricavano gli opiacei, una coltivazione allestita nel giardino di una villetta ubicata a lungo la strada della Mainizza. Il sequestro è scattato all'esito di una preliminare attività d'osservazione nell'ambito della quale i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo isontino hanno dapprima appurato e documentato l'esistenza della piantagione e quindi svolto specifiche analisi per determinare la natura opiacea delle coltivazioni, risultate caratterizzate da percentuali significative di morfina. La perquisizione è scattata mentre i due proprietari dell'abitazione si stavano accingendo alla raccolta del prodotto. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti.